Ben tornati cinefili qui sul canale di Movie Planet, io sono sempre Vittor Laslo88 e questo è Aiperitivo, ovvero la rubrica in cui si parla delle aspettative riguardanti un film in uscita. Domani arriverà nelle sale italiane Halloween Ends, ultimo capitolo della trilogia di Halloween iniziata nel 2018 e distribuita, prodotta da Blumhouse che raramente le sbaglia. Qualche film Blumhouse che non mi è piaciuto nel tempo c'è stato, ma sono molto pochi, uno di questi è Fantasy Island, ma anche ad esempio il primo Halloween del 2018 che a me non era piaciuto. L'avevo trovato un film commercializzato in maniera poco intelligente, che non aveva granché da dire e si riproponeva di essere un rilancio della saga, nonché sequel diretto del primo capitolo, con tanto di ritorno di Jamie Lee Curtis che non tornava per il franchise dai tempi di Halloween 20 anni dopo, film maccio che però aveva qualche idea interessante. Quindi diciamo che era uno di quei rilanci molto tipici di questi ultimi anni con i personaggi storici che tornano, però a differenza di altri film effettivamente di questo tipo Jamie Lee Curtis era una vera protagonista, non era il personaggio storico che tornava per passare il testimone ai personaggi nuovi, spesso molto shalby, no, il cazzo era un personaggio importantissimo, molto forte, la sua Laurie Strode è invecchiata nel corpo ma non nello spirito a quanto pare, anzi si è anche evoluta, è diventata ancora più tosta e a me il film comunque non l'aveva fatto impazzire. Poi un annetto fa è uscito Halloween Kills e quello invece mi aveva divertito, aveva anche un discorso interessante sulla psicosi di massa con tutta la parte con quel povero Cristo fuggito dal manicomio che tutti pensavano fosse Michael Myers ma che non poteva essere lui perché Michael Myers era descritto come un uomo alto due metri e fischia, estremamente forte, quello invece sarà stato alto un metro e cinquanta, assolutamente fuori forma, per niente simile alla descrizione di Myers ma la gente impazzita lo cercava con le torce e forconi morali, quindi avevo apprezzato molto questa disamina, poi c'erano un sacco di morti stupidissime proprio tipiche di questo tipo di film, una certa dose di violenza, colpi di scena, mi era piaciuto, mi aveva divertito, non è che ne parlerei come di questo gran filmone incredibile però non mi aveva neanche fatto schifo, non mi era dispiaciuto, per cui ho hype per Halloween Hands, assolutamente sì, ho un grande hype per Halloween Hands per il semplice fatto che questo è il capitolo finale di questa trilogia, troveranno sicuramente il modo di far tornare Michael Myers in altri film, è un franchise quello di Halloween che non finirà mai e tra l'altro è un franchise che si è evoluto nel corso del tempo perché il primo film di Carpenter era un film che aveva pochissima violenza al suo interno perché lui non voleva fare un horror di quelli violenti, voleva fare una cosa un po' diversa, poi mano a mano che si è andati avanti con i seguiti erano sempre più violenti e tradivano un po' lo spirito iniziale del film, però ci sta, se uno pensa a Halloween pensa alla violenza ed è curioso perché se guardate il primo film di violenza ce n'è poco nulla perché era proprio l'obiettivo di Carpenter, però a me francamente questo tipo di rimaneggiamento non dispiace quando è fatto bene io ho amato anche gli Halloween di Rob Zombie che era una cosa molto diversa, erano dei film di Rob Zombie con Michael Myers dentro infatti molti non li apprezzarono perché comunque Zombie è uno regista che piace o non piace come il caviale difficile che vedi un film di Zombie e dici sì carino o è bello o proprio non ti convince poi qualcuno che avrà la via di mezzo c'è però generalmente non lo so quindi questo Halloween Ends propone una Laurie Strode decisa a uccidere una volta per tutte Michael Myers che le ha portato via definitivamente tutto e è anche disposta a morire pur di portarlo con sé ormai non le frega niente di vivere, vuole solo farla finita, vuole che Michael Myers sparisca dalla faccia della terra e nel trailer si vede anche una scena in cui toglie la maschera quindi potrebbero esserci delle dinamiche interessanti a livello di violenza mi sembra bello carico mi sembra un film che si porta dietro l'onere di essere l'ultimo capitolo di una trilogia perché comunque è importante, i finali delle trilogie sono una delle cose più complesse da fare quando ti approcci ad un franchise se sei un regista, uno sceneggiatore che sta lavorando l'ultimo capitolo di una trilogia il compito è enorme perché si sono create delle aspettative il primo film costò, parlo non di quello che capita però del primo di questa trilogia costò 10 milioni di dollari e ne incassò più di 250 forse arrivò quasi a 300, fu un bel risultato il secondo costò il doppio, con tutta la questione covid riuscì comunque a racimolare più di 200 milioni quindi guadagna comunque 10 volte il costo questo è costato ancora un po' di più adesso il box office è più stabile, chissà quanto potrebbe guadagnare io penso che è un film che può arrivare tranquillamente anche lui ai 250 milioni però essendo il finale di una trilogia che il pubblico ha molto apprezzato generalmente potrebbe fare dei risultati inaspettati certo che spendere un pugno di milioni che per casi di produzioni come questa non sono chissà poi quanto e guadagnare così tanto è la specialità della Blue Mouse la Blue Mouse spende pochissimo adesso io vi ricordo ancora The Invisible Man che fu il primo film che in alcuni paesi venne mandato direttamente sulle piattaforme di streaming a pagamento come Cili, Rakuten TV, Etsy Miglia, Prime Video a pagamento eccetera costò 8 milioni e mi guadagnò tipo 200 milioni una roba del genere fu un successo clamoroso peraltro film di League One per cui è interessante vedere quanto le aspettative su quest'ultimo capitolo si siano alzate un sacco di gente mi sta scrivendo o lo vai a vedere Halloween Hands e io ho detto regà lo sto aspettando tantissimo devo dire che è un periodo parecchio prolifico per il cinema in questi ultimi tempi perché comunque settimana scorsa è uscito Everything Everywhere All At Once questa settimana esce Halloween Hands poi settimana prossima uscirà Black Adam è un periodo di uscite abbastanza interessanti e importanti quindi io personalmente hype per Halloween Hands cavolo qua non ho curiosità qua ho proprio hype perché sebbene la trilogia non sia partita in un modo che incontrasse il mio gusto personale mi sono dovuto ricredere quando ho visto il secondo che non sarà il film dell'anno di cui non sarà stato il film di quell'anno va bene ma è stato un film che io ho gradito moltissimo l'ho apprezzato mi è piaciuto per cui vediamo come sarà questo Halloween Hands io cosa mi aspetto personalmente mi aspetto un finale sconvolgente non mi aspetto che ci sia un finale trancheant che chiuda tutto perché Michael Myers deve poter tornare io mi aspetto che muoiano entrambi quindi muore Lori muore anche ovviamente Michael Myers ma poi si scopre che Michael non è propriamente morto sapete cosa mi piacerebbe? sarebbe fighissimo se lui morisse e poi a un certo punto vediamo qualcuno che prende la sua maschera e se mi facessero un altro film su Halloween con lui che ammazza e uccide ma si scopre che non è lui e che la leggenda di Michael Myers è diventato un simbolo rappresentato dalla maschera che si passa di generazione di killer in generazione di killer non mi dispiace a me una seconda trilogia in cui Michael Myers non è l'assassino ma c'è sempre il dubbio che possa essere lui mi intrigherebbe e non poco peraltro c'è John Carpenter alle musiche e John Carpenter tra i produttori lui pare che stia apprezzando molto questa nuova visione un po' più commercializzata di Halloween per cui le aspettative sono enormi peraltro arriva nel periodo di Halloween per cui siamo siamo a metà ottobre i film di Halloween escono sempre un attimino prima e devo dire che è un ottobre interessante perché recentemente è uscito Smile il che a me aveva divertito si poneva a metà tra il classico film commerciale con i jumpscare per ragazzini e qualcosa di più ricercato questo invece è un altro film che piace molto ai ragazzini e che porta tanta gente in sala perché vanno a vederlo per la violenza per cui essendo l'ultimo io mi aspetto che sia particolarmente efferato il primo Halloween del 2018 era violento ma non quanto Halloween Kills quindi sembra che abbiano voluto aumentare esponenzialmente capitolo dopo capitolo la violenza all'interno dei film quindi qui mi aspetto un vero e proprio bagno di sangue ma mi aspetterei anche che inseriscano una qualche critica alla società come era stato fatto in Halloween Kills una critica molto superficiale per l'amore del cielo ma tutta la parte già citata con la psicosi di massa verso l'evidentemente non vero Michael Myers secondo me potrebbe essere espanso magari parlando di qualcos'altro di qualche altro vizio della società che potrebbe essere non dico sviscerato scelta di parole molto curata parlando di un film con un tizio che squarta le persone e magari essere posto all'interno della trama in qualche modo non mi dispiacerebbe sta di fatto che oggi è mercoledì domani esce il film io non vedo l'ora di andare a guardarlo io sono qua che sto sinceramente frenendo per cui non vedo veramente l'ora di andare a vedere questo Halloween Hands vedremo come sarà vi farò sicuramente sapere perché sul mio canale farò al 100% la recensione quindi vi ringrazio infinitamente vi abbraccio grazie per aver inseguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti